La differenza sostanziale è che vedi proprio la felicità negli occhi delle persone e quella felicità quando stavo in diretta su Instagram non la riuscivo a captare. Ormai disoccupata E poi si addormentano Io scrivo delle canzoni che corrispondono alla mia sensibilità, alla mia storia, a volte però gli autori non si rendono conto di quanto bene possano fare queste canzoni, non solo a loro mentre le scrivono ma anche a quelli a cui arrivano le canzoni. È un mistero, è un po' come l'empatia, ci si prende o non ci si prende tra persone. Grazie. Grazie.